ciao a tutti ragazzi qui è zio degli animali che parla come sempre sono nel mio negozio a rovigo e sono qui oggi per parlarvi del ratto domestico l'ultimo video che ho fatto ho fatto un timelapse da appena nati fino a quando non sono diventati svezzati diciamo così oggi invece in questo video andremo a vedere un po più nello specifico la cura e la gestione di questo animale vi dico subito che alla fine del video metterò un qualche minuto di sfogo flame per delle cose avvenute nel campo dei ratti ma lo lasciamo per la fine del video nel caso guardatelo fino alla fine detto questo partiamo dicendo che il ratto domestico è chiamato ratto norvegese o rattus norvegicus ma questo può essere diciamo fuorviante perché in realtà non viene dalla norvegia ma bensì ha origine in asia quindi è un topo asiatico ci viene dalla cina per intenderci e ha preso il posto di quello che era il ratto nero che è diciamo errato quello un po più aggressivo un po più cattivo che spesso viene correlato a malattie peste e compagnia bella questo qui non ha nulla a che vedere con quel rato lì comunque nonostante ci siano tanti pregiudizi su questo animale perché oddio che schifo è un ratto oddio è uscito dalla fogna oddio porta le malattie e queste cose qui non è assolutamente vero in realtà il ratto è un animale molto pulito non nel senso che non faccia pipì o non defecchi però nel senso che lui è molto spesso pulito cioè passa tanto tempo a mantenere sempre il pelo pulito quindi difficilmente il ratto sarà sporco avrà un cattivo odore chiaramente la lettiera dovrà essere cambiata il più frequentemente possibile i maschi tendono ad avere un odore un po più forte ovviamente come praticamente qualunque mammifero e una la caratteristica più interessante del ratto è che un animale estremamente intelligente e socievole di conseguenza sarà possibile instaurare con il nostro ratto un bellissimo rapporto di compagnia risponderà al suo nome se lo chiamiamo viene da noi su youtube ci sono anche degli altri video dove fanno vedere i trucchi che gli hanno insegnato i primi che mi vengono in mente c'è una ragazza che gli fa vedere dei cartelli con dei comandi tipo fai la capriola e ruota su te stesso queste cose qui e ratto vedendo il cartello esegue l'azione o uno che mi è rimasto un sacco impresso una ragazza ha fatto finta di tagliarsi ha fatto vedere al rato che aveva una ferita che chiaramente era un segno di penna il ratto ha fatto tutto un percorso che comprendeva anche una carrucola quindi il ratto ha preso una corda e si è tirato su per andare a prendere in un cestinetto un cerotto e portarlo alla padrona che si era fatta male questi sono un paio di esempi per dimostrare quanto il ratto possa essere intelligente e quanto ci si possa interagire in maniera veramente divertente fatta questa piccola promessa andiamoli a vedere più da vicino questi sono alcuni dei ratti che ho qui in negozio sono gli stessi dell'altro video dove faccio vedere la loro crescita diciamo così come potete vedere sono cresciuti parecchio adesso in questo caso queste sono alcune alcune femmine sono diventate già belle grandine sono tutte belle stanno bene hanno anche un bel pelo e come vedete sono anche belle arzille tante volte chi ha la fobia dei ratti purtroppo è tutto collegato alla loro coda a me sinceramente una coda così non fa né caldo né freddo cioè è la coda del ratto non mi dà problemi invece ho notato che tantissime persone soprattutto le mamme o comunque delle signore hanno problemi quando vedono la coda perché dicono ma è anche carino e tutto ma quella coda che fa proprio schifo quindi adesso non so se sia una fobia specifica quella della coda del ratto ma vi dico che la maggior parte delle volte lo schifo o la paura per il ratto proviene proprio dalla loro coda chiaramente è un roditore ha una dieta 100% onnivora di conseguenza mangerà di tutto e di più più la dieta sarà varia più il nostro ratto starà bene e vivrà il più a lungo possibile che è di circa tre anni c'è chi dice che vive precisamente 36 mesi poi muore istantaneamente io mi immagino un orologio biologico con le lancette che scorrono come tocca il suo terzo compleanno muore istantaneo fa un infarto e muore così ma vabbè lasciamo stare e quindi mangeranno di tutto e di più mangeranno frutta non tantissima mangeranno verdura mangiano proteine quindi in questo caso ad esempio io gli posso fornire tranquillamente anche una buona quantità di insetti che è una preda naturale per loro proprio perché ho sempre insetti da pasto disponibili in negozio si possono anche fornire crocchette per cane o per gatto bisognerà un attimo prestare attenzione alla loro miscelazione o eventualmente ci sono anche i mangimi specifici ma non sono semplicissimi da trovare in commercio io ho parlato con diverse persone sinceramente non mi sono neanche io trovato molto bene quindi preferisco non utilizzarli ma fornirgli una dieta varia che comprende quello che dicevo prima a volte gli fornisco anche qualche semino del pelletato per cavie o per conigli sono comunque pelletati di erbe quindi la dieta si può spaziare veramente in qualsiasi campo il ratto purtroppo non essendo molto longevo è anche debole principalmente a due patologie diciamo così incorre non raramente in delle problematiche una di queste sono purtroppo i tumori e un'altra sono problemi all'apparato respiratorio purtroppo è un animale debole e tante volte sono problemi che possono anche insorgere senza una vera e propria causa chiaramente se io il mio ratto lo tengo in cantina in un posto umido dove ci sono delle correnti d'aria è molto più semplice che vada a contrare il raffreddore una polmonita o qualcosa che già data la sua debolezza sarebbe al 99% fatale quindi bisognerà prestare attenzione al posto dove metterlo e a come viene gestito come vedete loro sono tutte buone io non le maneggio tantissimo perché comunque essendo in negozio dopo magari ho anche le mani che sanno da ratto tocco un serpente e mi prendo un morso o comunque avendo clienti che entrano ed escono non posso maneggiarle tanto soprattutto avendone tanti non è facile starci dietro a tutti quanti però come vedete sono estremamente buone non mi mordono assolutamente nulla mi danno qualche morsettino ma è più un morso di conoscenza che un morso di oddio ti faccio male oppure oddio vai via la gabbia dovrà essere il più grande possibile questa è una gabbiettina piccola provvisoria sto aspettando delle gabbie più grandi e quindi una gabbia più è grande meglio è deve essere sviluppata anche in altezza perché è un animale molto attivo che si arrampica e l'ideale è l'utilizzo di piccole amache o comunque di fare diversi pianali in modo che il ratto possa usare tutta la dimensione sia a terra diciamo così che sia in altezza è un animale come dicevo prima molto 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 sociale quindi è sempre sconsigliato acquistarne uno solo perché per quanto noi possiamo starci dietro e tutto quanto la compagnia di un suo simile non è sostituibile quindi avranno sempre bisogno di stare in due o più non è un problema maschi con maschi o femmine con femmine quindi è sempre molto consigliato prendere o due o più maschi o due o più femmine in modo da evitare accoppiamenti che avvengono a prescindere in modo da avere della compagnia senza tutti i problemi che possono essere dati da appunto un eventuale accoppiamento non bisognerà mai lasciare il ratto libero di girovagare senza essere monitorato questo perché essendo un redditore è possibile che vada a mordicchiare qualcosa se non un mobile o magari qualche soprammobile qualcosa magari morde un filo e prende anche la scossa quindi dovrà essere sempre monitorato ad esempio una volta che viene presa tanta confidenza sarà il ratto a non volersi allontanare dal suo proprietario infatti io conosco diverse persone che il ratto ad esempio ce l'hanno o dentro la borsa o dentro le tasche anche quando vanno in giro il ratto semplicemente sta dentro la tasca e ogni tanto salta fuori chiaramente non bisognerà portarlo in giro per non esporlo a pericoli inutili però diciamo è un animale veramente di compagnia è adatto a tutte le età anche a un bambino piccolo chiaramente sempre tenendolo monitorato comunque è un ottimo animale come dicevo prima non è un animale sporco infatti il manto se guardate sono perfettamente pulite queste rattine non hanno alcun tipo di crosticina sporco striatura qualcosa come magari il criceto o magari una cavia peruviana che ha un po' lo strascico del pelo impregnato di urina i ratti sono estremamente puliti la lettiera dovrà essere cambiata chiaramente ogni 3 4 5 giorni in base al tipo di lettiera che viene usata in base a quante grande la gabbia in base a quanti ratti abbiamo comunque diciamo che queste sono delle regole di generali che valgono per qualunque animale quindi non mi sembra il caso di doverle spiegare come vedete sono agili e vanno dappertutto quindi l'importante è veramente fornirgli tanto spazio fornirgli anche degli stimoli adesso io qua non li ho perché sennò mi rompevano le scatole con le cose però ci sono diverse cose anche solo da rosicchiare dove poter andare dentro dei tubi qualcosa ci sono diversi tipi di giochi o comunque di arredi interattivi anche per loro per mantenerli sempre attivi e non farli mai annoiare come animaletto secondo me è eccezionale proprio perché è buono non è antipatico non fa confusione come magari può fare un pappagallo è di compagnia ed è interattivo a differenza magari di un retile quindi è un animaletto ottimo per chiunque che possa essere un ragazzino, un ragazzo anche magari un adulto, infatti ad esempio uno l'ho ceduto ad un uomo diciamo così proprio perché voleva aggiungere un ratto alla sua piccola colonia diciamo così aveva tre maschi e adesso ne ha aggiunto un altro diciamo che l'unico punto a sapore è la loro longevità molto bassa quindi per chi ha difficoltà a superare la perdita del proprio animaletto forse questo non è l'animale più indicato proprio perché non vive molto a lungo però io posso dirvi che chi ha avuto almeno un ratto ha detto ne avrò sempre uno forse un altro punto a sfavore è eventualmente il veterinario che appunto dovrà essere un veterinario esotico non un veterinario di animali domestici quindi eventuali visite o quant'altro potrebbero risultare leggermente più costose rispetto a un veterinario normale oltre a questo non mi sembra ci siano altre cose così rilevanti da specificare non hanno bisogno di trattamenti obbligatori quindi non devono obbligatoriamente essere vaccinati o quant'altro io ad esempio a loro ho fatto un trattamento antiparassitario preventivo sotto consiglio della veterinaria ed è stata l'unica cosa che ho fatto come vedete sono belli, sono arzilli non so più come starci dietro perché sono veramente delle pesti ogni volta che qualcuno si avvicina subito gli vanno addosso che vogliono giocare, vogliono essere toccati, vogliono interagire basta un niente per attivarli e scatenarli nella loro attività e credo di aver dato un'infarinatura generale su quello che è il mondo del ratto domestico vi invito come sempre a non fermarvi solo alle informazioni che ho dato io ma eventualmente cercate sempre anche qualcos'altro una qualche scheda o un qualcosa o eventualmente se ne andate ad acquistare uno da un allevatore informatevi presso il vostro allevatore su come gestire questi animali così da avere diciamo una visione più ampia possibile delle cose da sapere e gestirli al meglio come accennato all'inizio del video qua ci sarà un piccolo sfogo flame comunque non ci saranno né parolacce né altro quindi non preoccupatevi più uno sfogo personale perché quando ho fatto il video sui rattini che crescevano oltre io ad aver specificato guardate che questa non è una cura un video alla cura è semplicemente un mostro come crescono sono stato costruttivamente criticato da qualcuno e questa cosa mi ha fatto incacchiettare abbastanza perché io oltre ad aver specificato che non era una videoguida comunque ho dato delle informazioni generiche però sono stato appunto ripreso addirittura questi geni della lampada hanno deciso di dedicarmi un video di 30 e rotti minuti dove ogni 30 secondi che dicevo nel mio video dopo loro ci facevano un paio di minuti di eh no così no così no così no e volevo dire comunque che io ho una veterinaria esotica che mi segue sono obbligato dall'ASL ad avere appunto una veterinaria di riferimento e questa veterinaria ha fatto la laurea di 7 anni e ha seguito anche diversi corsi diciamo così opzionali per accrescere la sua abilitazione e sinceramente sentir dire da qualcuno che è laureato all'università della strada eh ma i veterinari esotici spesso non capiscono niente sinceramente a me fa sia ridere che anche tantissima tristezza la veterinaria mi aveva avvisato come vi ho accennato prima del discorso dei rattari o delle rattare solitamente sono più le rattare che sono persone sgradevoli che tendono a soverchiare è così o no no quindi anche qui fate sempre attenzione quando parlate e una cosa ad esempio uno degli esempi che posso dire che mi fa proprio incacchiare di brutto è che a me hanno ripreso dicendo eh ma non bisogna riprodurli ce ne sono già così tanti in giro in commercio ci sono i rescue pieni di ratti da adottare gratuitamente perché mai dovresti riprodurli non serve a niente poi sono loro stesse a riprodurre e a vendere ratti quindi dicono una cosa poi ne fanno un'altra ma io gli ho anche detto ma scusami mi hai detto che non devo riprodurli e poi li riproduci tu e mi hanno detto eh ma noi facciamo selezione mi dispiace ma no perché predicare bene razzolare male questo e il discorso è anche che io sono stato attaccato perché ho dato informazioni sbagliate oh mio dio e però loro hanno dedicato ben 30 minuti di video chissà quanto tempo ci hanno messo per montarle tutto l'hanno pubblicato però loro non hanno mai fatto una video guida su come si tiene il ratto quindi neanche da dire guarda io lo spiego guarda questo no neanche lo spiegano usiamo altri canali però rimanendo sul vago non si giustifica mai niente quindi ehm sì io adesso mi sto trattenendo veramente tanto perché mi potrei infuriare considerevolmente soprattutto con il discorso della critica costruttiva perché a casa mia una critica viene effettuata magari in privato oppure ehi guarda che ci sono diversi errori dovresti fare così dovresti fare cosà e basta non pubblicamente con un video attaccando mettendo diciamo mettendo zizzania comunque a un ambiente che non è un privato un qualcosa ma è un'attività commerciale quindi insomma diciamo che la stupidità delle persone non ha mai limite e lo ne abbiamo conferme sempre più spesso questo però non vale solo per i ratti ma vale anche per tante altre cose come anche ad esempio gli axolotl e anche il video che ho fatto secondo qualcuno ci sono delle precisazioni oh mio dio ma sta morendo qualcosa io vi posso dire i miei axolotl sono stati presi a maggio del 2019 sono ancora là sono a peso forma sono belli non è mai morto nessuno io adesso ho due leucistici che sono quelli rosa sono miei sono lì stanno bene mangiano defecano crescono la veterinaria me li ha guardati detto si è tutto ok quindi sinceramente se dopo un anno sono lì stanno bene tutto no no anche qui no qua quando io gli ho detto questa cosa del ma guarda che stanno bene la risposta questa è proprio una delle risposte più demenziali che si possano utilizzare c'è differenza tra vivere e sopravvivere allora sì è vero ma lo sai tu quello quanti anni di esperienza hai per dimostrare che temperatura ambiente aerea di 26 gradi sia pericolosa un caso o due casi non sono sufficienti io li ho lì ne avevo una decina non è mai morto nessuno di quelli che ho ceduto io ho detto come li tengo quindi suppongo che queste persone li stiano tenendo allo stesso modo non ne è morto nessuno quindi il discorso è sono io un mago che ho tipo la fonte della vita e gli animali qua non muoiono o magari sono loro che non dovrebbero fare il finto dio che sa tutto quindi ragazzi come sempre vi dico informatevi il più possibile un po' da tutte le campane perché come magari sentite la mia campana e sentite la campana di questi dei che sanno tutto loro fate una media e magari esce fuori anche un risultato migliore può essere io parlo sempre per mia esperienza ricordo nuovamente che ho una veterinaria che mi segue ormai è un'amica quindi quando viene dentro se vede che c'è qualcosa che non va fa oh guarda che là c'è un problema subito si corregge che sia una lampada è raro che succeda però magari con un animale nuovo che anch'io non conosco ad esempio adesso ho due petauri dello zucchero in negozio io non li conosco bene perché non li ho mai avuti quando verrà la prossima volta gli dico va bene così va bene la gabbia va bene l'alimentazione e tutto quanto se mi dice che c'è qualcosa da sostituire o da cambiare verrà assolutamente fatto perché io ascolto chi ha studiato e non chi si è laureato all'università della sapienza e basta credo di aver finito qui non mi posso dilungare ancora così tanto quindi ragazzi come sempre mi raccomando iscrivetevi per qualsiasi cosa mi potete contattare su facebook o su instagram o lasciarmi un commento ho finito le cose da dire quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video un commento un commento un commento Grazie.